Problema delle n regine. Sarebbero 8 regine, però queste non le scacchiere 8x8, ma noi siamo informatici e le scacchiere possono essere nxn. Allora, questo è un problema introdotto nel 1800, ci aveva lavorato anche Gauss e aveva trovato a mano 72 delle 92 soluzioni. L'idea è la seguente, posizionate m regine in una scacchiera nxn, in modo tale che nessuna regina ne minacci un'altra. Quindi vedete, questa non minaccia nessuno sulla riga, nessuno sulla colonna e nessuno sulla diagonale. E quello che vogliamo fare è stampare tutte le possibili configurazioni in cui le regine si piazzano, si possono essere piazzate sulla scacchiera. Allora, quello che vorrei farvi vedere è, io inizio, e dopo vi chiedo un po' una mano, inizio perché io inizio con i metodi più stupidi in assoluto, quelli li fornisco io, poi voi man mano mi date una mano a migliorare. Un paio li faccio io e poi cerchiamo di migliorare. Allora, ricordatevi che è un problema di enumerazione, perché devo provare a piazzare le regine ovunque, a meno che non sappiate una formula magica, che nessuno ha ancora trovato, per piazzarle in maniera deterministica. Ok, dato, piazzate la prima, dopo la punti, poi la piazzate la seconda e così via. No, quello che possiamo fare è provare a piazzarle. Allora, metodo molto stupido. Ci sono n quadro caselle dove piazzare una regina, ok? E ogni casella può avere una regina oppure no. Quindi, quello che posso fare è avere un array binario di scelte, che però è grande n quadro, 64, si uguale a true solo se la regina è in si. Ok? Se arrivo a n quadro, ho finito perché ho controllato tutte le possibili caselle. Le scelte sono true-false, o la piazzo o non la piazzo. Il pruning, se la nuova regina che sto piazzando minaccia una regina esistente, è inutile andare avanti. Ora, in questo caso, l'albero generale, senza considerare il pruning, ha dimensione 2 alla 64, perché ho 64 bit. E 2 alla 64 è un po' grandino, perché è 1.84 per 10 alla 19. Ok? È ovvio che abbiamo un problema di rappresentazione. Abbiamo deciso di rappresentarle così, ma non è una buona idea. Allora, quello che possiamo fare è questo. Siccome devo piazzare n regine, invece il mio sistema di prima mi piazzava fino a n quadro regine, che è assolutamente inutile. Ok? Io ho n regine, ci sono n quadro caselle, quindi decidiamo in quale casella andrà ogni regina. Dove la metto la prima? 1, 2, 3, 4, fino a 64? Bene. Dove metto la seconda? 1, 2, 3, 4, fino a 64? Va bene. Quindi, le choices a questo punto sono ogni regina può essere piazzata in 64 caselle. Il pruning è sempre lo stesso, non riesco a calcolarlo il pruning, non riesco a dirvi quanto taglio, però posso dirvi quanto è grande lo spazio. Io ho n quadro valori e li devo scegliere n volte, quindi n quadro alla n. per n uguale a 8, questo è 64 alla 8, che è 2 alla 48, che è 10 alla 14. Quindi, cambiando la rappresentazione, io ho migliorato di un fattore 10 alla 5. Non è malaccio. Ho appena migliorato virtualmente il mio algoritmo di 10.000 volte. C'è un miglioramento, ma lo spazio è ancora grande. Quindi la domanda che vi faccio è come faccio a migliorare a questo punto? Qualunque idea va bene. Qui c'è un suggerimento, per esempio, come si distingue una soluzione 1-7, cui la regina 1 è piazzata in posizione 1, la regina 2 è piazzata in posizione 7, da una soluzione 7-1, dove la prima regina è piazzata in 7 e la seconda è piazzata in 1. ma le regine non hanno un nome, cioè non sono diverse uno dall'altro. Quindi chi me frega se sono invertite. Quindi vi chiedo anche online se mi date una mano a migliorare, a cambiare rappresentazione. Non è detto che debbiate continuare così, ovviamente. E comunque, cioè per me una matrice 8x8 è un vettore di 64 elementi, cioè memorizzalo come vuoi, ma alla fine è sempre 64 elementi. Non sono simmetriche le soluzioni. Allora, la domanda che era stata posta, scusate per voi, fuori è se c'è una qualche simmetria, ma come puoi vedere non c'è simmetria qua. Se questa non è simmetrica rispetto a qua. Quali c'è altra idea? Anche da fuori. Guardate questa cosa qua. Ci sono due fatti qua. Ho piazzato una regina in posizione 1 e in posizione 7 che sarà qua. Aveva senso guardare una cosa del genere? No. Quindi qua c'è già un problema. E poi Mirko da fuori ci dice la regina iesima toglie caselle a quella i più unesima. Allora, prendo il suggerimento di Mirko e vi faccio vedere questo. Allora, se invece di scegliere semplicemente dove piazzarlo fra 1 e 64, se ho deciso di mettere la prima regina in posizione 1, è inutile che io guardi la posizione 1, guarderò i valori più grandi, quindi se magari sceggo, non so, 7. Dopo, se devo scegliere un'altra regina, è inutile che vado a vedere cosa succedesse la posizione in 3, perché era già stata considerata dalla seconda regina questa possibilità, quindi guarderò da 8 in poi. Quindi, con questo semplice accorgimento qua, considero solo per mutazioni ordinate delle posizioni delle regine, quindi la prima va in 1, la seconda va in 3, poi in 5, 9, 14, quello che è, ma mai il contrario, mai disordinate. Quindi, giusto per fare una stima a braccio, diciamo, io divido il numero di scelte possibili per n fattoriale, perché n fattoriale è il numero di permutazioni che non considererò, considererò solo una permutazione che è quella ordinata. Quindi, divido per 40.320 e ho 10 alla 9 possibilità. 10 alla 9 inizia a essere un valore tollerabile, perché 10 alla 9 un miliardo per me è il momento in cui ci sta in un secondo di calcolo in un processore moderno. Quindi, da 10 alla 19 a 10 alla 9 abbiamo migliorato di 10 alla 10. Giovanni ci dice per ogni riga o colonna c'è solo una regina necessariamente ed è giusto. Però iniziamo dalla riga. Quindi, se c'è una regina per ogni riga è inutile che io consideri la possibilità di avere due regine nella stessa riga. Quindi, ogni regina deve scegliere in quale colonna andare. Quante sono le colonne? N. Quante sono le regine? N. dovrò scegliere N alla N che ovviamente è comunque un numero grandissimo se N è arbitrariamente grande ma per il problema di Gauss 8 per 8 non va così male. E infatti otteniamo 10 alla 7. Quindi, l'idea è prendo 1 e questo significa che la prima regina è nella prima colonna. Questo significa che la seconda regina può essere nella seconda riga di una qualunque delle colonne anche uno però Giovanni ci diceva guarda che ce n'è una solo per ogni colonna e Stefano ci dice una volta posizionata una regina è possibile anche escludere le posizioni sulle diagonali. Infatti qua siamo quasi alla fine invece di decidere metto la regina in una qualunque colonna guardo tutte le permutazioni perché una descrizione della mia scacchiera potrebbe essere 1 2 3 4 5 6 7 8 oppure 1 3 5 7 2 4 8 queste sono 6 queste sono due permutazioni e mi rappresentano regina 1 in 1 regina 2 in 2 regina 3 in 3 sono tutti in diagonale non ho una buona idea ma questa invece mi rappresenta regina 1 in 1 regina 2 in 3 ci sta perché nella scacchiera significa che questa è qua e questa è qua quindi non si minacciano fra di loro quindi questa è l'inizio di una soluzione possibile quindi choice diventa 1 n devo anche eliminare le diagonali perché se io piazzo appunto una regina qua queste si mangiano non va bene quindi è inutile che io consideri tutto quello che succede dopo quindi posso fare pruning anche di qui quindi mi viene n fattoriale che è 8 fattoriale che è 40.000 e quindi se poi uso il pruning delle diagonali ottengo 15.000 posizioni considerate da confrontare con 10 alla 19 ok allora capite che vabbè questo è un problema del cavolo nel senso che è un problema un gioco matematico però ci sono tanti problemi che possono essere affrontati con questa tecnica io vi faccio vedere altri giochi no vi faccio vedere altri giochi perché sono le 15.23 mi ero ripromesso di lasciarvi 10 minuti quindi ve li lascio e la prossima volta vedremo ah questo è il codice e vedete che quins qui è la parte ricorsiva vedete la struttura questo è il meccanismo che prova a piazzare le regine in posizione da 1 n quindi questo è il choices ma le prova tutte però poi qui va a verificare che sia legale sulle diagonali ed è una schifezza perché vedete che qua ci sono queste formule che dovete studiarvele da solo non ve la sto a spiegare ma sta semplicemente controllando le diagonali se c'è una qualche diagonale occupata dichiara legal uguale false se è legale va avanti altrimenti si ferma lì tutto lo schema generale tutte le volte che ha piazzato la n regine stampa una soluzione questo stampa tutte le possibili soluzioni ok quindi però quel print s come diceva il vostro collega dovrebbe essere una matrice allora viene stampato il mod però non sto lì a scrivere i dettagli di quella parte di codice e se siete curiosi di sapere quanti soluzioni ci sono questo è fino a n uguale a 12 non ne ho di più ma si può andare un pochino più alto questo è un albero per n uguale a 4 vedete che abbiamo in realtà visitato un albero solo che subito alcune parti si sono bloccate perché una volta che ho piazzato queste due regine qua non so più come andare avanti non la posso piazzare qua non la posso piazzare qua non la posso piazzare qua e non la posso piazzare qua perché è sempre sotto controllo di un'alta quindi tanto vale che smetta perché non posso piazzare la terza regina come faccio a piazzare la quarta non ha alcun senso e questo è il pruning di questo albero con n uguale a 4 notate che ci sono un sacco di problemi in cui vabbè una soluzione sola e poi inizia a diventare interessante da qui e poi crescono parecchio poi ci sarebbe un discorso sulla rotazione e simmetrie perché questa è una rotazione di quell'altra ma su questo dettaglio non entriamo dico scuscolato perché avevo dimenticato di questi slide finisco con quest'ultima parte e sostanzialmente vi dico ok ma ci sono altre soluzioni sì ma sono euristiche questa è una soluzione si chiama minimum conflict euristic che funziona in questo modo buttate delle regine a caso proprio spargetele a caso sulla scacchiera una per riga fate che a caso ovviamente ci saranno dei conflitti regine che si mangiano ok allora quello che potete fare è provare a spostare una regina in un'altra posizione cercando di ridurre i conflitti e spostate 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 finché non riuscite più a farlo c'è una possibilità non altissima che riuscite a trovare una soluzione corretta però sostanzialmente anche con un milione di caselle vi bastano 50 passi prima di bloccarvi se riuscite a arrivare in fondo ottenete una soluzione ma con una certa probabilità non siete sicuri di ottenere una soluzione e soprattutto non le innumerate tutte però stiamo parlando di n uguale a un milione un cattiere molto grande e questo ci porterà poi a tutti questi altri capitoli gridi ricerca locale probabilistici soluzioni per problemi intrattabili che ci portano al fatto che ci sono delle soluzioni euristiche che possono portarci a soluzioni non perfette ma migliori cioè di dimensioni che altrimenti non sarebbero praticabili